Cortona celebra il buon vivere e le sue eccellenze, i grandi vini della Cortona Doc e la Chianina IGP, protagonisti assieme all'aione dell'evento Chianina e Syrah, che si è svolto tra il Centro Convegni Sant'Agostino e il Teatro Signorelli. Cortona è sempre più presente alla riscoperta dei suoi veri prodotti tipici, che sono il Syrah, oramai diventata una eccellenza abbinata alla Chianina. Abbiamo comunque anche altre due eccellenze che si stanno muovendo nel territorio cortonese, che sono sicuramente la riscoperta dell'aione e anche l'olio a questa vergine di olivo, con la prima edizione nel passato anno di Novolio, quindi come amministrazione ci stiamo impegnando sempre di più nella valorizzazione delle nostre eccellenze, che sono sicuramente un ottimo riscontro e un ottimo ritorno a livello turistico da un punto di vista enogastronomico. In passarelli, grandi sire italiani a rappresentare 40 cantine, più una selezione dal Rodano, ma non solo vini anche alta cucina, 50 gli chef presenti a Cortona, di cui ben 12 stellati. A firmare la Kermest Terretrusche Events, in collaborazione con il Comune di Cortona e Cortona Sviluppo, assieme al Consorzio Vini Cortona. E noi bisogna sempre più valorizzare le nostre eccellenze con incontri e pubblicità e manifestazioni, perché solo di cultura non si vive e alla cultura bisogna abbinare anche questa riscoperta del territorio. Viva Issyra, si beve tutti! Grande la ciccia Issyra! Viva Issyra!